La nuova vicina. Ciao, io mi chiamo Carlo. E tu come ti chiami? Buongiorno, io sono Luisa. Piacere. Sei la nuova vicina? Sì, abito qui da ieri. Vengo da Milano. Ah, sei di Milano? No, no, siamo siciliani, ma i miei lavorano nel nord da anni. Io invece sono di qui. La mia famiglia abita a Bologna da generazioni e generazioni. È una bella città, vero? Bellissima. È la mia ed è piena di ragazzi. Beh, io adesso devo andare a lezione. Il mio autobus passa tra due minuti. Ci vediamo. Sono studente anch'io, sai? Beh, arrivederci. Alla prossima. E attenzione a non perdere l'autobus. Come ti chiami? Io mi chiamo Carlo. Io sono Martina. Piacere. Abiti qui da molto tempo? Sono qui da ieri. Adesso devo andare. Arrivederci. Alla prossima. E attenzione a non perdere l'autobus.